Venezia, Pechino e il motorino, Ciamdò, Tibet orientale, grossi problemi con il motorino. Il cuore del motorino, il carburatore, non porta più benzina al motore. Qualcosa di questa roba qua si è scassata e non so che farci. Siamo fermi qui a Ciamdò, d'altronde il povero motorino ha fatto 25.511 chilometri, quindi andare su e giù per le montagne del Tibet a 4.500 metri non gli ha fatto certo bene. Lo sai giustare? Sei un bravo meccanico? Dov'è il problema secondo te? Guarda dentro.